risotto melone prosciutto e mozzarella eccolo qua il nostro piatto antichissimo melone prosciutto mozzarella il pane cos'è che ci attrae il sapito l'asciutto il fresco il dolce sono le sensazioni abbine ad assieme sapito dolce fresco e umido dici perché vai a scomodare un piatto così ci metti il melone per divertirmi perché la cucina anche piacere e farvi vedere come con attenzione riusciamo partendo dagli abbinamenti storici ogni abbinamento storico e frutto di secoli di esperienza quindi non c'è bisogno di sconvolgerlo ma possiamo anche divertirci quindi quello che l'abbinamento il pane o qualunque carboidrato vicino lo sostituisco con il riso eccolo il gioco è questo guardate allora il prosciutto provate il melone una punta di menta romana una punta di mozzarella questi sono le quattro tonalità il dolce il fresco l'aromatico e croccante quando le metti al palato è un'esplosione di sapori riso sostituisce carboidrati e tira giù dritto vi ricordate il discorso della composizione delle ricette piano piano e ce la farò scrivere questa è il riso il melone che si inserisce qui e va avanti il vino dalla componente acida e la mozzarella se noi abbiamo tanto dolce vi ricordate come si scende la ton la tonalità dei dolci con il grasso quindi io metto la mozzarella e già quel dolce sarà meno perché il palato avvolto da una parte di grasso quindi mozzarella e burro mi fanno già scendere il tono del dolce tranquillamente e lamenta sarà la parte aromatica e poi prosciutto melone e mozzarella diventano il condimento per il riso cosa dovete fare voi la stagione dei meloni non sempre troviamo quello giusto quindi se vi capita un melone che non è proprio dolce al punto giusto fate così prende del melone qual è la caratteristica del melone il floreale il profumo il melone profumato e acquoso e una buona sensazione di dolce adesso questo melone invece di pensarlo fresco lo penso così in casseruola stufato pochino di burro il melone contiene tantissima tantissima acqua quando parliamo di stufato ve lo ricordate è il coperchio che va sopra è il tepore ogni prodotto che contiene acqua cuoce nella sua stessa acqua nel suo brodo quindi quando parliamo di stufata non c'è bisogno di aggiungere niente lo mettete in una casseruola coperta mettete la temperatura bassa il tepore il tepore quella temperatura sotto i cento gradi che permette l'evaporazione e il vapore permette di ricadere sul prodotto e lo disfa non metto sale ogni prodotto vegetale che entra a contatto con il sale inizia a fare un processo di marinatura il sale struttura i vegetali quindi se volete un prodotto che vi scende giù che diventa crema è la bassa temperatura e l'essenza di sale sale non sale coperchio e questo pian piano si siede vedrete che il melone diventa già cremoso dopo l'andremo soltanto a frullare e abbiamo la nostra crema di melone barra zucca la famiglia la stessa c'è solo la tonalità dolce ed è molto più profumato quando parliamo di risotti si mette la cipolla maturato e ce l'ho qui quando facciamo risotti di base come abbiamo fatto nel nome non è troppo presto riso tostato e cipolla maturata ma il melone si abbina bene anche ad un pochino di cipolla allora vi ricordate cipolla tagliata al momento una cipolla bianca va benissimo ma ancora una volta un ma senza sale messa sul prodotto e appena tagliata una cipolla appena tagliata in cottura a un sapore e una cipolla lasciata sul tagliere ne ha un altro il prosciutto che noi andremo a mettere sto smontando il prosciutto e melone una fetta di melone a testa di prosciutto a testa il prosciutto conferisce sapidità ma lo posso mettere nel risotto no lo metteremo sopra a contrasto pensate già cosa sta succedendo cosa succederà perché tra i salumi vi ricordate la sequenza guanciale molto grasso pancette prosciutti spec ecco prosciutti spec sono quelli che hanno più bisogno di attenzione in cottura perché rischiamo di dare un prodotto sapido qua poco 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 vino bianco lo lavoro con il vino bianco questo mi serve soltanto per scioglierlo lo sciolgo questo lavoro fa sì che manca un pochino di acqua basta appena appena che il prosciutto mi stacca eccolo qui è staccato adesso il prosciutto più di tutti ha bisogno di una cottura è un termine brutto ma in cucina si chiama sudato perché è proprio una terminologia classica si fa cottura al burro poco 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 così cosa succede che questo prosciutto iniziere a diventare croccante ma morbido e ce l'abbiamo adesso il nostro melone quanto deve cuocere poco poco deve cuocere poco lasciatelo qui adesso lo frulliamo per noi non ci resta che iniziare risotto voi in casa vi preparate il prosciutto da cuocere all'ultimo momento morbido ma nello stesso tempo croccante sopra la crema di melone dolce questo è buono anche per fare un card per fare una crema pasticcera ma noi ci faremo risotto ancora burro è ma non c'è da spaventarsi si mette giù facciamo sciogliere sempre meglio ricordate che il burro in questo caso non è mai aromatizzante ma è soltanto un isolante per il riso quando noi mettiamo burro in partenza ne metto un po e meno riso ognuno la sua varietà ricordatevi sempre che il riso nostro bianco italiano ha bisogno di tostatura di essere tostato quindi si mette il fuoco si mescola di tanto intanto cottura in casserole preferibile un chicco di riso messo in pentola lo rovinate è bello una cottura adagiata larga che poi nel tempo ho imparato anche ho imparato anche a non trattarlo male quindi si mescola di continuo cosa succede il lui il riso inizia ad accumulare calore c'è questa integrazione questa uniformità tramito centrale anima e anime strani ma l'anima centrale del riso e la parte esterna vi ricordate che il riso bianco perché ha seguito a strutturalmente due tipi di amido amilosi amilo peccatina ma non ci interessa niente l'amido esterno è più tenero e dobbiamo farlo tostare perché lo facciamo tostare si riconosce un risotto dalla cottura risotto e cottura omogenea riso bollito anima centrale al dente esterno molto ampio gelatinoso facciamo tostare inizia a far cuocere anche questo una volta tostato sapete la mia predilezione per vini freschi aromatici e con una buona acidità ho scoperto nel tempo che il vino con la componente acida più alta anche un'azione sull'amilo quindi mi permette di mantenere il chicco più strutturato il vino non è vino da cucina ma sono vini italiani qua sta scaldando bene e vedrete come diventa una piacevole ricetta dove passa il concetto del sano tra l'equilibrio dei nutrienti ma anche sulla qualità dei prodotti può essere un piatto calorico perché sto mettendo burro e mozzarella sì ma l'idea del sano è un'altra cosa non è solo un calcolo calorico non spetta a me a dirlo però vedo che facciamo tanta attenzione e parliamo di sano ma non può essere più guardate il vino evapora ecco mai bollore tumultuoso secondo me il riso che va in casseruola a bollore continuo l'acqua è poca perché adesso io qui ci metto la crema la crema il passato di melone sorrido perché sto già immaginando il sapore attenzione al sale questo è uno dei risotti che in stagione lo propongo sempre anche sulla mia tavola riso brodo fermi tutti se non vi confondo il brodo vi ricordate che l'acqua il fuoco riesce a donare all'acqua qualunque sfumatura e sapore il brodo non è solo acqua un brodo vegetale non è acqua con verdure ogni alimento che metti dentro cambia la tonalità quindi se lo vedete più dolce sarà carote e cipolla tostata se lo vuoi più erbaceo vai sulle lattughe ma sulle foglie di sedano in questo caso attenzione i dolci no non metterei ancora carote il brodo c'è tranquillamente qui questo riso deve cuocere con il melone poco brodo più passata di melone lo voglio lo voglio sentire il melone il prosciutto che sta sudando vediamo un po prosciutto lo rimando un pochino avanti pian piano così vedete come sta diventando lo allarghiamo questo avanti da solo così è adesso la mozzarella anche meglio questa volta il fior di latte o parliamo sempre di nutrienti che che compongono gli alimenti in questo caso la mozzarella la caseina e proteica gli dona questa con la cottura questa pasta filata e voi che fate dice come lo facciamo sto risotto coi prodotti a riciclo quando il melone vi viene male quando il melone viene male è pronto per fare il risotto al melone quando la mozzarella è un pochino più vecchia che non significa basta col passare dei giorni qualunque mozzarella si siede che significa che la forza delle proteine è sempre più debole vedete che questa mozzarella diventa sempre la mozzarella fresca e tenace più passa nei giorni più si ammorbidisce come faccio risotto con la mozzarella con la mozzarella di qualche giorno sono pronto per fare queste ultime operazioni non metto spezie ma metto menta romana poca vediamo a che punto è arrivato il riso il riso porta avanti la sua cottura con brodo e melone abbiamo detto bollore continuo il melone che gli dona assieme all'amido la cremosità e questo sapore floreale dolce abbiamo detto il melone potrebbe essere preparato anche senza burro stufato normalmente con il sale con la cipolla il sale aggiunto alla fine quindi eliminiamo già una parte di grasso per il prosciutto eccolo qui guardate come è diventato croccante ma non sapido un pochino di burro e vino da mettere a contrasto qui ne abbiamo messo poco allora mantecazione abbiamo detto che nella mantecazione prende il nome da mantechia da burro ma io non lo voglio mettere o se ne metterò ne metterò poco vi ricordate tutta la mia lezione sulle temperature di mantecazione io metto sempre una mia abitudine quando poco poco di vino in ultimo che mi concede una nota una nota acida e questo sta andando avanti lasciatelo riposare un po lamenta che senso ha lamenta la mente pericolosa e come la salvi in cucina o piace o non piace ma sicuramente gli eccessi di menta romana e salvia sono pericolosi nella cucina come facciamo prendiamo le cimette dobbiamo metterne poca infine perché il concetto non è la menta che deve trasferire il sapore a tutto il risotto è mangiando incontri il pezzettino di menta che ti rinfresca il palato monotono o monotona o multisensoriale non c'è una cosa fatta meglio o peggio c'è la cucina di ognuno di noi che si esprime attraverso i gesti le tecniche e la conoscenza che speriamo aumenti sempre in ognuno di noi la conoscenza quando aumenta la conoscenza quando abbiamo voglia di sperimentare di confrontarci la menta è andata adesso attenzione fate scendere la temperatura prima di mettere la mozzarella e la mozzarella si mette prima di andare a tavola perché perché il risotto diventerà filante ma filante ma niente non vi dico nient'altro filante ma che significa filante ma ve lo vedrete fra poco pronti per essere servito eccolo è lui basta messo lo bagnato piatti caldi provate ad immaginare il tono del melone dov'è andata a finire è molto basso è molto aromatico la sapidità ancora una volta che la vado a incontrare durante la degustazione attenzione adesso è che tra qui e far male è un attimo